oh mon dieu e brivieto vuoi una mano? vuoi una mano? in Himalaya bravissima edis è il numero uno questa è stata la mia fatta lei ha girato la foto perchè si può girarla la provenza bellissima sono accorto io si sono andati questi stati però girati ecco questo è l'aria noi facciamo tipo l'aria e come lo fai così? niente e addirittura la madonna e adesso anche meglio lì era un paio da lontano si ah questo è meglio ah questo non solo per far vedere bene l'aria queste sono le mie foto in giro per il mondo ah io ho capito tu da poco fai io io pensavo da anni tanti anni